buongiorno ciao buongiorno nonno e questo l'hai fatto per me grazie ciao papà come ti senti oggi mi sento che potrei anche tornare al lavoro ci dovresti prendere un giorno papà ok ecco io volevo andare alla baita alla baita a fare cosa potresti aiutarmi a chiuderla per l'inverno è la prima volta che chiede aiuto a tuo nonno per fare qualcosa ok ci verrò vengo anch'io ti prego ti porto a caccia e ti tolgo qualche brutta abitudine che stai prendendo dal tuo padre no tesoro senti neanche oggi vado al lavoro così dovresti aiutarmi quelli a casa no non cominciare ho detto di no guardare me papà dai portami con te charlotte non oggi ok piccola la prossima volta è tutta tua ho già preparato tutto prendi quello che ti serve ok fammi solo mangiare prima un uovo mangiare prima un uovo mangiare prima un uovo dammi le chiavi no guido io ok mettiti comodo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti